Qualche anno fa un mio collega parlando di club quotati in borsa e in particolare della Juventus mi disse acquistare le azioni di un club calcistico è un puro atto di fede. Intendeva dire che quando acquisti le azioni di un club sai che difficilmente questo distribuirà dividendi, probabilmente farà aumenti di capitale che diluiranno la tua quota e quindi a suo giudizio se non ci sono finalità speculative acquistare e rivendere nel medio breve quando si attende un aumento del prezzo, a suo modo di vedere dal punto di vista risparmiatore è un investimento che non ha grande senso. Ci sono diversi aspetti da vedere in questo tipo di argomento e credo sia interessante affrontarli e analizzarli insieme. Voi potete farli nei commenti, potete lasciare un like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, aggiornarvi attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati e naturalmente seguirmi su Fubolitics, la mia newsletter di sport business dove trovate anche questo contenuto in forma testuale per avere tutti gli elementi di discussione che affrontiamo qua puntualmente e altri approfondimenti sulle questioni principali di sport business del momento. Allora andiamo al tema di oggi che credo sia particolarmente interessante. E la domanda è molto chiara, è una buona idea investire in un club di calcio? O ancora, che senso ha oggi per un club di calcio quotarsi in borsa? Perché è chiaro che il tema cambia, che voi lo vediate dal punto di vista del club o che voi lo vediate dal punto di vista del risparmiatore. E naturalmente parliamo in particolare, tra un attimo, di Juventus, una situazione molto particolare. Ecco, la storia delle quotazioni in borsa inizia con il Tottenham Hotspurs, 1983. Al Tottenham servono 350.000 sterline. Il Tottenham vuole costruire White Hart Lane nella zona di Northumberland Park a Londra e decide, anziché aprire all'indebitamento, di quotare parte della società per raccogliere quel capitale. E l'operazione funziona al punto che tanti club guardano quell'operazione con interesse. Immaginando, peraltro, che essendo loro, in quanto club calcistici, radicati nel cuore e nella testa delle persone e avendo anche molti risparmiatori e possibili investitori tra i loro tifosi, e non solo, quella possa essere un'operazione importante. E negli anni 90 la borsa, che diventa una risorsa anche e soprattutto per i club inglesi, diventa una prospettiva a cui molti guardano. E molte squadre europee si ispirano a questo. In Italia la Juventus, la Roma, la Lazio. In particolare la Juventus si quota in un momento in cui la crisi Fiat, ne ha parlato anche recentemente Luciano Moggi, che era direttore generale in quegli anni, comincia a far pensare ai club in logiche diverse. Dopo il 96, dopo la Coppa dei Campioni Champions League del 1996, il club deve cominciare ad autosostenersi. E allora comincia a pensare, e lo fa per necessità e lungimiranza, a come deve poter massimizzare i suoi ricavi. Forse non avevano ancora in mente in quel momento i dirigenti della Juventus quello che sarebbe accaduto da lì a poco, ovvero che il modello crescita dei fatturati dal 2000 in poi di fatto sarebbe diventato il modello egemone. In Inghilterra già stavano ragionando molto in quella direzione. Ma sta di fatto che la Juventus si quota in borsa in questa logica. Raccogliere capitali laddove la proprietà in quel momento non può garantire così tanti capitali. Il guerri sportivo parlava di vendi e vinci. E io ne ho parlato anche nei video sulla storia economica degli ultimi 40 anni della Juventus. Ecco, torniamo alle squadre. Quindi la Juventus arriva in borsa per questo. Roma e Lazio ci arrivano anche loro per raccogliere. Sono in una fase di grande crescita negli anni a cavallo col 2000 e pensano, ok, andiamo a raccogliere capitali per alimentare la crescita. Juventus, Roma, Lazio. In Germania il Borussia Dortmund, in Francia l'Olympique Lyonnais, in Olanda l'Ajax, in Scozia il Celtic Glasgow. E ancora il Portogallo con Porto e Benfica, il Besiktas e il Galatasaray in Turchia. Insomma, c'è un'escalation di questo tipo di cose. Ma la Premier League, che è di fatto il campionato più ricco del mondo, dà un segnale opposto. Ha funzionato il Tottenham, si è quotato nel frattempo il Man United, si è quotato l'Arsenal, si cuoterà anche il Manchester City, ma poi tutti questi club tornano alla proprietà privata dopo essere acquistati da ricchi proprietari. Fanno de-listing, come si dice in gergo. Ecco, quindi, cosa succede? Perché questo accade? Principalmente perché i proprietari, quando hanno la possibilità di controllare il loro club, decidono di riprendersi la proprietà per una questione di controllo, per non avere il dovuto passaggio dagli azionisti ad avallare le decisioni e perché lo considerano più redditizio. Quindi la domanda è ok, è più redditizio per un club di calcio non essere quotato in borsa? Dipende, a mio modo di vedere, dalla proiezione di breve, medio o lungo periodo che si tiene in considerazione. E la domanda forse è un'altra. Perché un club apre il capitale al pubblico in primo luogo? Ecco, la prima cosa che spinge una squadra ad aprire il suo capitale è essenzialmente la stessa ragione per cui lo fa qualsiasi società tradizionale. Vuole far crescere il business, ha bisogno di fondi per farlo. Diciamo così, hai un club, vuoi svilupparlo, non hai la possibilità di metterci soldi di tuo perché la maggior parte di quelli che stai investendo è già destinata al club, agli stipendi, ai costi operativi dello stadio, del centro sportivo, eccetera, ai trasferimenti, ma non vuoi andare in banca perché dovresti indebitarti, fare un prestito, magari in quel momento gli interessi non sono quelli che ti aspetti, non sono particolarmente vantaggiosi. Ecco, decidi di vendere le azioni al tuo club, decidi di vendere una quota, mantieni il controllo, mantieni la maggioranza, ma nel frattempo incassi una cifra che chiaramente ti permette di avere dei soldi da investire che prima non avresti avuto. Allargamento del capitale sociale. Però c'è da tenere conto anche l'aspetto opposto. Cosa dice, cosa fa il risparmiatore? Ce ne arriviamo tra un attimo, anche perché ci sono ovviamente dei pro e dei contro nella quotazione. Quando parte il fair play finanziario la Juventus spiega il nostro fair play finanziario è la borsa. Come a dire, è vero, adesso c'è il fair play finanziario, ma noi in quanto quotati dobbiamo già rispondere a dei criteri che chiaramente ci impongono di tenere i conti a posto, perché dobbiamo rendere conto agli azionisti. E poi, però, questa cosa torna e nel caso plus valenza l'abbiamo vista tornare al contrario. Attenzione, si diceva la Juventus non può fare determinate cose perché è quotata in borsa. Ecco, è vero? È vero che le comunicazioni devono essere date in un determinato modo. È vero che stare in borsa dà più paletti. Non è ammissibile che questo tema venga utilizzato dai tifosi opposti come sinonimo di la Juventus è in borsa e invece gli altri che non lo sono possono fare quel che vogliono. Ci sono degli obblighi societari, lo sappiamo, poi, sul tema Covizoc non voglio aprire il calderone, ma le società hanno a loro volta degli obblighi. E quindi la borsa diventa e lo si vede in questi anni un'arma a doppio taglio. Ma come tutte le opportunità è un'opportunità che presenta dei rischi, dei paletti, dei limiti. Ecco, ma qual è il punto di vista del risparmiatore? Perché qui abbiamo visto due aspetti. Società che prendono capitali ma anche società che preferiscono far da sé. E cos'è nel caso del risparmiatore? e torna l'idea del mio collega che ho citato all'inizio. È una buona idea investire i soldi in un club? A prima vista potrebbe sembrare attraente. Warren Buffett dice una cosa non investite mai in un business che non riuscite a capire e in qualche modo diciamo così suggerisce la prudenza, una prudenza minimale però tanti dovrebbero non investire del tutto. a quel punto. Però è chiaro che l'identificazione porta a volte a considerare questo tipo di investimento ma investire nel calcio ha elementi di incertezza importanti certamente più incerti di quelli che sono gli elementi delle aziende tradizionali e certamente è più rischiosa lo vediamo nelle forti fluttuazioni dei valori degli ultimi anni. Alcuni esempi il prezzo delle azioni dell'Ajax di Amsterdam era addoppiato negli ultimi dieci anni ma quello del Borussia Dortmund introdotto vent'anni fa si è dimezzato. L'Olympique Lyonnais ha visto il suo valore scendere dell'85% dalla quotazione del 2007 erano gli anni d'oro è comparso il Paris Saint-Germain quindi un elemento esterno che ha cambiato completamente lo scenario competitivo intorno al club senza che il club abbia avuto colpa alcuna non è colpa del club se era il più ricco di Francia ad un certo punto e vinceva stabilmente e poi è arrivato il Paris Saint-Germain a scompigliare il quadro e quindi anche questi sono elementi di incertezza perché ricordiamolo lo dico spesso quando parlo di sport americani lo scenario competitivo dello sport è la Lega non è mai il club non si vende il club si vendono competizioni si vende equilibrio e si vende poi la capacità di spezzare questo equilibrio vincendo campionati trofei eccetera comunque dicevo l'Olympique Lyonnais meno 85% dal 2007 in poi ecco una ragione fondamentale per queste fluttuazioni sono le vittorie e il fatto che gli asset principali dei club sono i giocatori che hanno un valore su un altro mercato che quello dei trasferimenti un mercato peraltro che generalmente e giustamente è considerato scollegato dalla realtà economica un mercato basato sulle voci che fanno fluttuare ulteriormente i valori delle azioni un esempio agosto 2018 Borussia Dortmund un grosso aumento da 5,93 a 7,58 perché c'è una voce sul trasferimento di Ousmane Dembélé e poi questa cosa si verifica Dembélé va al Barcellona per oltre 100 milioni di euro ma qui mettiamo insieme le due cose l'irrazionalità del mercato l'ho già fatto notare in un altro mio video e su Footballytics lo trovate quando ho parlato dell'affare Mbappé Real Madrid ecco c'è una mia analisi su questo guardate quanti giocatori pagati dai 100 milioni in su sono stati degli autentici flop nell'anno in cui passano e poi sono stati rivenduti o diventati pesanti per il proprio club Dembélé e Coutinho sono l'esempio secondo me più clamoroso i 240 milioni di Neymar la peggior spesa nella storia del calcio e il Barcellona se non ne avesse fatto certi pessimi investimenti non sarebbe ridotto come è ridotto ma comunque un altro aspetto è la totale incertezza dello sport mentre una società tradizionale può stabilire obiettivi ragionevoli e anticipare i suoi risultati questo è assolutamente complicato nello sport un autogol del difensore un errore del portiere un infortunio cambiano lo scenario imprevedibilità dopo la sconfitta con l'Olympique Lyon nei quarti di finale a sorpresa della Juventus in Champions League 2020 crollo del 10% e poi tutti sono attenti ma è chiaro che ci sono degli scenari di imprevedibilità e quindi diciamo così secondo me il mio collega aveva in qualche modo ragione è un investimento che è paragonabile a un atto di fede volatilità dei prezzi evidente e quindi verrebbe da dire ok limitiamoci a tifare i club di calcio ma anni fa suggerì a questo mio amico un investimento ad esempio sulle azioni Juve e lui fece una cosa dentro un arco temporale inferiore inferiore ai due anni e dentro quell'arco temporale inferiore ai due anni fece un investimento e realizzò e guadagnò e quindi questa logica diciamolo puramente speculativa ci porta a parlare di qualche possibilità ma è evidente che non è quello che ad esempio fanno alcuni fondi che prendono degli asset per tenerli in portafoglio e per tenerli nel lungo periodo perché si è visto in questi anni i dividendi che garantiscono i club quindi la percentuale sugli utili sono molto molto limitati se non tendenti allo zero la storia dei club in borsa sembra avercelo insegnato abbastanza bene quello che sembrava una grande opportunità nel calcio non sembra funzionare particolarmente bene io per il futuro vedrei piuttosto un futuro per le leghe puotate dentro il mercato perché le leghe permettrebbero di bypassare il concetto del club che vince e che perde come il banco che vince sempre a monopoli così come nelle scommesse ecco quella potrebbe avere potrebbe essere un'idea sensata poi chiaramente ai vertici delle leghe bisogna metterci le persone giuste spero che questa analisi vi sia piaciuta e vi abbia interessato sono certo che avete tante domande fatele nei commenti ci sentiamo presto ciao